Continua indisturbato anche con il nuovo governo Draghi l'ingresso degli stranieri. La Sea-Watch in acque libiche, con 147 migranti a bordo, cresce la pressione sull'Italia. Le ultime due operazioni dell'ONG tedesca hanno dimostrato che il flusso di migranti verso l'Italia è in continua crescita, a prensione anche sul fronte sanitario, mentre gli italiani si dividono tra obbedienti e sudditi sottomessi. Alcuni protestano per la loro mancanza di libertà, per via della cosiddetta museruola, mentre i ristoratori tentano qualche timida protesta senza successo. Altri invece pensano di cannarsi di aperitivi e i più dementi a fare casino per i loro beniamini del pallone. Il tutto mentre l'Italia viene invasa dagli africani, al 98% maschi, accolti a braccia aperte, in un'Italia con una crisi economica devastante e una crisi sanitaria. L'Italia continua a svenarsi per queste assurde accoglienze, che portano al solito degrado e assistenzialismo. La mancanza di capacità da parte dello Stato di integrare queste persone, l'impossibilità di dare una posizione a questa gente, che alla fine viene sfruttata nei campi da agricoltori senza scrupoli e alcuni agricoltori in crisi per contenere le spese, per poter sopravvivere. In quanto è tutto incatenato anche con le problematiche del settore dell'agricoltura. Altri africani invece scelgono la malavita e lo spaccio ed altre belle occupazioni illegali, mentre altri vivono neghetti ai margini della società. Questo è quello che è capace al governo dei bunisti, che lanciano il messaggio «Nessuno resta indietro». Ma la realtà è che questa gente crea disordine, il malcostume, l'aumento della criminalità, l'aumento dei casi di violenza e gli italiani indietreggiano sempre di più. Il risultato è che siamo quello che vogliamo essere. Infatti, chi dorme favorisce questa situazione. Come dice il proverbio, chi vive di speranza, disperato amore. E a caso, al governo, abbiamo uno di nome, Speranza.